Giosuè Boccia, Massimiliano Bonagura, Andrea Caracagno, Samuele Caputo, Emanuele Rosario, Giovanni Caffa, Giove, Giulio, Lorenzo Corpino, Giuseppe D'Agostino, Samuele D'Agosto, Domenico D'Abroso, Angelo D'Angelo, Giuseppe Di Luca, il compito di mattino, Paolo De Simone, Marco D'Orca, Edoardo Spazio, Abbonso Di Pagliazzo, Francesco Maisto, Manuel Padone, Roberto Vidalio, Maffaele Muzzo e Fabio Pagladino, Francesco Sicismondo, Francesco Somma, Bruno Vito, Antonio Vendiana e Antonio Vintello. Questi ragazzi sono i ragazzi che hanno vinto il prestigioso torneo online, i ragazzi sono i ragazzi che sono i ragazzi che sono i ragazzi che sono i ragazzi di Napoli.